Sì, c'entra lì. Stanno... Vai nel prato? Ma qualcuno! C'è il tuo velgio? Vai in giro! Potrei anche tentare di zoomare, magari. Ma non lo fare. Sarebbe più interessante se si picchiano con quei posti. Eh, faccio un salto perché rispondi. Stai camminando? Hai detto che facevi un salto? Hai detto che facevi un salto? Ti scherzi, l'altro giorno Gillo ha fatto tre salti alla macchina. Voilà, perché ha detto faccio un salto alla macchina, non abbiamo più schiacci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sistente. Prendiamo ancora.